Sì, tu pure stai riferendo? Meglio, almeno c'è la, sì, sì. Io faccio quella che ti dici in giro, un POV. C'è stata che la trotta che ha fanno andato così sulle mattonelle, la verità che stai parlando, le ho guardato dietro lì. Ok, mi devo fermare. Lo faccio, ho utilizzato anche quello che potete. Ok? Lo faccio cercando di essere centrale. Mano a mano, mano a mano, guardatevi del freno posteriore. Utilizzate solo l'anteriore. Ogni cambiamento richiede un tempo di adattamento. Perché se siete abituati a fare quella cosa che ti dà sicurezza, per cambiarla richiede un tempo di adattamento. Ok? Quindi fate di destra di questo sistema. Magari adesso ne mettiamo due o tre. Così lavorate per tutte le parallele. Ok? E cominciate a lavorare per attivare questa sensibilità nella scattata. Ok? Prima posizione centrale. Poi portiamo in centro e poi in avanti. E vediamo. E' tutto il fischio. E' tutto il fischio. E' già una riposta. Questo è un fischio. La prima posizione centrale. Mio اسculare. Si rompia. Come va a far ciò? E non è la scattata. Come va a far ciò? E' tutto il fischio. E' la scattante. E' lì. E' un fischio. E' la domanda... E' un fischio. E' la scattante. E' un fischio. E' una scattante. un attimo bravo Padri grazie partito in modo controllato